Cari amici di Filosofando Facile, benvenuti di nuovo sul canale. Oggi ci trasferiamo ad Elea e quindi parliamo di Parmenide, degli Eleati, dell'Eleatismo che fiorisce proprio nelle colonie greche dell'Italia meridionale, quella che è la Magna Grecia e prende il nome dalla città di Elea, che è una città dell'attuale Campania, quindi sulle coste Campania, sud di Pestum, della quale oggi ci restano delle rovine e quindi la filosofia parmenidea e quella degli Eleati sui seguaci appunto nasce proprio qui ad Elea, quindi la città nella quale visse, nacque Parmenide e quindi siamo in un'atmosfera, in un'area geografica differente, completamente differente rispetto a quella ionica che poiché come ben sappiamo la filosofia si sviluppa, nasce proprio sulle coste dell'Ionia, quindi dell'attuale Asia minore, l'attuale Anatolia con Talete, Anassimandro, Anassimen, i Milesi e in realtà poi in Magna Grecia, sulle diciamo coste italiche e nelle città greche in Italia, la filosofia si sviluppa con i Pitagorici, con Pitagora quindi a Crotone, ma anche con Parmenide ad Elea tra il VI e il V secolo a.C. Siamo anche in un'atmosfera filosofica completamente diversa poiché siamo lontani dalle intuizioni fisiche degli ionici che erano impegnati ad individuare l'archè, quindi il principio e le sostanze fisiche che spiegassero i molteplici fenomeni e i mutamenti della natura. Invece gli Eleati vanno oltre la superficie e vogliono indagare quell'essere che concepiscono unico, immutabile ed eterno. Parmenide è anche considerato il fondatore della ontologia, dell'ontologia perché è il primo a parlare dell'essere, inteso come universo nella sua totalità, come un tutto omogeneo, quindi uno, eterno ed immutabile, continuo. L'ontologia è proprio il discorso sull'essere, dal greco ontos e logos, quindi discorso sull'essere parmenide, è considerato il fondatore dell'ontologia. Ma inoltre, secondo gli Eleati, quindi le cose non sono così come i sensi ce le presentano, quindi non sono così come noi le percepiamo con i sensi, ma sono come la ragione, come la ragione le esamina nella loro profondità e quindi come la ragione le ha stabilite nella loro, potremmo dire, condizione strettamente e rigorosamente logica, nella loro essenza profonda. Convenzionalmente, da alcuni studiosi, il fondatore dell'Eleatismo era considerato Senofane di Colofone, ma numerosi studiosi smentiscono questa ipotesi, poiché Senofane, che abbiamo poi già esaminato in un video precedente, pensatore errante tra Elea e Colofone, in realtà poi è stato identificato come un pensatore ionico, quindi lontano, diciamo, dall'ambiente parmenideo, quindi lontano dall'Eleatismo, anche se fu un pensatore vissuto nel VI secolo a.C. e come abbiamo detto che girovagava tra Elea, Colofone, tra diverse città poi greche. E abbiamo visto che Senofane scrive delle poesie, soprattutto in contrasto con la tradizione omerica ed esiodea, ed intramenzò in questi suoi componimenti poi delle idee riguardanti l'aspetto, diciamo, teologico e filosofico, ma sostanzialmente le opere di Senofane partono da una critica dell'antropomorfismo religioso, perché secondo Senofane gli uomini, soprattutto i greci, vivono di questa credenza radicata proprio nella loro cultura, che gli uomini sono, cioè che gli dèi, scusate, sono ad immagine e somiglianza degli uomini, cioè che gli dèi sono nati come gli uomini e poi hanno voce, corpo, pensiero come quello umano. E per questo motivo Senofane ironizza anche sul fatto che i traci disegnano la divinità come sono loro stessi, ad esempio rossi di capelli e con occhi azzurri, gli etiopi disegnano gli dèi camusi e neri, oppure ironizza poi Senofane sul fatto che gli animali, anche se i buoi cavalli potessero, disegnerebbero la divinità, la loro immagine e somiglianza. Invece Senofane dice che questi attributi sono stati conferiti alla divinità da Omero e da Esiodo, che hanno attribuito alla divinità anche ogni genere di vizio umano e che è degno di biasimo e di disprezzo anche fra gli uomini, vale a dire furti, adulteri, reciprochi inganni. E quindi dice Senofane che tutto questo è stato creato da Omero, da Esiodo, quindi dalla tradizione omerica desiodea, perché poi Senofane immagina una divinità che è un dio tutto, che quindi coincide con l'universo e che è una divinità che non nasce, quindi che è eterna, che è sempre stata, che è e che sarà, e che soprattutto si differenzia sia dall'immagine, potremmo dire, fisica degli uomini, cioè è diversa sia fisicamente sia mentalmente dagli uomini. Ma il fondatore, convenzionalmente, il fondatore della, diciamo, scuola eleatica, dell'eleatismo, è Parmenide. Vissuto a cavallo tra il VI e il V secolo a.C., Parmenide nasce ad Elea e è anche l'autore di un poema sulla physis, quindi sulla natura, che dove Parmenide espone le proprie idee, questo poema sarà poi intitolato, gli sarà dato il nome programmatico di Sulla Natura, perché fra gli scritti dei preplatonici, dei presocratici, abbiamo tantissime opere che hanno questo medesimo titolo, Sulla Natura. Ma abbiamo, tra i frammenti di questo poema, che ci sono giunti in particolare nel proemio del poema del filosofo di Elea, di cui purtroppo ci sono rimasti solo circa 150 frammenti, abbiamo un'immagine in cui Parmenide, immagina di essere trasportato su un carro da focose cavalle e accompagnato dalle figlie del sole, dinanzi ad una dea che gli mostra il cuore della rotonda verità. Ed inoltre il tono ispirato ed oracolare ci fa capire come fosse, diciamo, indissolubile in numerosi scritti dei presocratici, dei preplatonici o appunto di questi pensatori antichi, come ci fosse questo connubio indissolubile tra poesia e filosofia. Ma inoltre questo fa ipotizzare alcuni studiosi che questo tono, diciamo, ispirato ed oracolare, che Parmenide appartenesse ad un'elite, diciamo, ad un'aristocrazia e che quindi fosse uno di quei pensatori che sostenevano, diciamo, l'idea che la conoscenza è riferita a pochi iniziati, quindi è prerogativa di pochi iniziati, quindi potremmo dire una idea elitaria della conoscenza. Ma andiamo adesso a parlare strettamente del pensiero parmenideo, perché Parmenide è forse considerato da Platone e da Aristotele come il primo vero filosofo, anche se la loro testimonianza pesa sulla sua filosofia come un macigno. Perché pesa come un macigno? Perché essi la interpretarono semplicemente come fondata sulla contrapposizione tra una conoscenza esclusivamente razionale che costituisce il piano astratto della verità, della Lefea, e un insieme di molteplici fenomeni sensibili, particolari, privi di verità, che invece costituisce la sfera dell'opinione, quindi della doxa. Ma questa interpretazione, non dura a morire, oggi non è più sostenibile, non è più accettabile, come dimostra una lettura dei frammenti priva di testimonianza, sostenuta da numerosi studiosi. Parmenide, in realtà, non si discosta dalla prima intuizione tipica dei pensatori ionici, milesi, che concepiscono la realtà come un tutto omogeneo, uno eterno continuo, all'interno del quale hanno un loro senso particolare i fenomeni mutevoli con il loro divenire, i fenomeni molteplici con poi il loro divenire mutevole. Parmenide, però, è il primo ad inserire questa intuizione in un contesto che per la prima volta dà importanza, in un contesto di discorso che dà importanza, sia al metodo della ricerca, sia alla sua natura logica, poiché Parmenide sostiene che il campo conoscitivo umano deve comprendere, più che altro il programma conoscitivo umano, deve comprendere sia il piano di ciò che è, il piano di Toeon, vale a dire il campo conoscitivo che ha come oggetto la realtà nella sua totalità, sia il campo conoscitivo di Taeonta, delle cose che sono, vale a dire quel campo conoscitivo che ha come oggetto la realtà come luogo dei fenomeni particolari e quindi delle esperienze umane. Ma questa distinzione metodologica fondamentale tra piano astratto della realtà, di ciò che è, il piano concreto delle esperienze, di ciò delle cose che sono, porta all'individuazione dell'unica via di ricerca percorribile. In che senso? Perché essa, infatti, nonostante sia divisa da questi due aspetti, è volta all'indagine di tutto ciò che esiste, vale a dire dell'universo nella sua totalità. in questo senso l'universo è sia la somma, cioè è l'unità, sia del piano astratto della verità, sia delle esperienze concrete e quindi dei molteplici fenomeni particolari. È l'unione di queste due sfere. Ma Parmenide dice che oltre questa strada non esiste un'altra strada percorribile, un'altra via di ricerca percorribile, quindi esclude l'impercorribile via di ciò che non è, perché dice ciò che non è proprio perché non è è inconoscibile ed inesprimibile. Quindi esclusa dall'orizzonte delle vie di ricerca percorribili la strada di ciò che non è, Parmenide si focalizza invece sulle caratteristiche dell'unica via di ricerca percorribile, che è quella di ciò che è. E quindi esamina poi i semi, i segni, scusate che noi possiamo isemata, volevo dire, quindi i segni che noi incontriamo su questa strada e le prime caratteristiche, le caratteristiche originarie dell'oggetto della nostra ricerca, vale a dire di quest'essere che è unico, che è eterno, che è immutabile e che è inoltre, abbiamo detto, totale, quindi continuo, ma ed inoltre è atemporale. ed inoltre è temporale. Ma se il sapere è la somma, cioè diciamo più che la somma è l'unione sia del piano astratto della verità, sia di quello concreto dell'esperienza, allora non bisogna confondere i segni che ci permettono di differenziare il campo della verità da quello che caratterizza il campo dell'esperienza, cioè da quei segni che costituiscono il campo dell'esperienza. poiché sarebbe un grave errore logico e metodologico e sono sordi e ciechi coloro che confondono questi due campi, cioè i segni di questi due campi. Per fare un esempio, i concetti di nascita e morte sono due concetti non adatti a descrivere Toeon, il piano di Toeon, vale a dire di ciò che è, dell'universo nella sua totalità, perché l'universo non nasce e non muore, quindi non ha senso parlare di nascita e morte parlando dell'universo nella sua interezza, ma invece nascita e morte sono concetti adatti a descrivere i fenomeni precari e mutevoli che avvengono nell'universo. e quindi l'unità è, diciamo così, prerogativa di Toeon, quindi l'unità è riferita a ciò che è Toeon, la dualità è riferita a Taionta, quindi alle cose che sono. E poi inoltre dice Parmenide che la mente e i sensi ci permettono proprio di indagare tutte queste strutture e quindi il pensiero e le sensazioni sono, per quanto siano diverse, sono in realtà fondamentali nella costruzione di una conoscenza, perché pensare significa collegare, mettere in relazione, quindi spiegare e questo lo può fare solo il pensiero che è capace di dare alle cose la loro vera collocazione perché il pensiero unisce le cose, riesce a collegarle nonostante queste siano distanti nello spazio e nel tempo, quindi le pone nella loro vera collocazione ed infatti il pensiero o meglio più che altro dice Parmenide la legge che governa il mondo è strutturata allo stesso modo del pensiero che pensa il mondo e quindi anche l'essere, l'essere che viene pensato dal pensiero è strutturato come il pensiero che pensa l'essere. Questo che sembrerebbe uno scioglilingua è riportato anche in realtà da un frammento di Clemente e Alessandrino negli Stromata, vale a dire pensare ed essere sono la stessa cosa. Questa è l'equazione fondamentale. Quindi l'essere è strutturato come il pensiero che lo pensa. E' la stessa la legge che governa sia l'essere sia il pensiero che pensa l'essere. Ma inoltre a questo discorso concernente il piano astratto della verità, quindi questo discorso che parla dell'unità e che si riferisce all'essere, Parmenide poi sostituisce un altro discorso che è quello della dualità perché dice il discorso poi si fa parlando dei fenomeni molteplici e delle esperienze concrete, umane e sensibili, il discorso da logico si fa invece fisico, astronomico, biologico, embriologico, poiché come abbiamo detto in precedenza la mente e i sensi ci permettono di comprendere la realtà nelle sue strutture logiche e fisiche. e quindi in questo senso Parmenide dice che l'unica via percorribile è quella di Toeon, di ciò che è, ma abbiamo detto che hanno un loro senso particolare anche tutti i fenomeni mutevoli che caratterizzano, diciamo, l'universo. Ma, quindi, l'unità è il concetto che descrive il piano di Toeon. Poi Parmenide, cioè dice, sostituisce il discorso dell'unità con quello della dualità e utilizza il principio fuoco-notte per descrivere, diciamo, la dualità e quindi per parlare e per spiegare, appunto, i fenomeni mutevoli, i fenomeni particolari che caratterizzano, quindi, l'universo e quindi per parlare del piano empirico, del piano concreto dell'esperienza umana utilizza il principio della dualità.